Sarà necessario il coraggio, un coraggio spirituale, personale, un coraggio che prende posizione di fronte al caos minacciante, il caos che sale nell'opera stessa del cuore, come ogni coraggio veramente grande. E sopra, contro di sé i molti, l'opinione pubblica, le non verità, condensate negli slogan e nelle organizzazioni. Grazie. 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 Grazie.